Gli accumuli di Bitcoin da parte delle whales non accennano a fermarsi di un minimo. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto vi auguro un buon venerdì mattina a tutti, un buon inizio fine settimana, ma soprattutto ragazzi, oggi, dato che è il venerdì, ci sarà l'Altcoin Fry, dove nella prima parte di questo video andiamo a vedere le ultime news relative al mercato di criptoalute, cosa è successo nelle ultime 24 ore, sia nel comparto altcoin che bitcoin. Ma nella seconda parte, oltre ad analizzare bitcoin, varie metiche interessanti come liquidazioni, open interest, eccetera, eccetera, andremo ad analizzare anche delle altcoin a livello grafico, che ovviamente sono in top 100, che anche voi mi consigliate di andare ad approfondire. Prima però di andare a vedere tutto nel dettaglio, ti chiedo come sempre di supportare il canale, lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso. Hai fatto? Perfetto, non perdiamo altro tempo e passiamo con la visuale APC. Dunque ragazzi, partiamo con la visuale su investing.com, in modo da andare a vedere che dati di carattere fondamentale usciranno nella giornata di oggi. Abbiamo come dati importanti derivanti dall'eurozona, esattamente alle 11, i CPI numbers. Abbiamo un'aspettativa di mercato del 2,5%, un dato precedente del 2,8%, e staremo a vedere come si sta comportando l'inflazione in zona europea. È importante andare a vedere queste metriche perché ovviamente influenzano in modo diretto, soprattutto per quanto riguarda i CPI numbers, la decisione, in questo caso, della Banca Centrale Europea. Abbiamo anche il manufacturing PMI del governo cinese, o meglio dell'economia cinese. Poi abbiamo vari dati di carattere sul settore manufatturiero in zona statunitense. Ma passiamo con le notizie che riguardano ovviamente il mercato delle criptoalute, dato che, ragazzi, sta facendo parlare molto di sé, soprattutto gli addetti ai lavori. Infatti, ragazzi, volevo riportarvi questa metrica. Infatti, nel giorno del 28 febbraio, ier l'alto, perché ovviamente questi sono dati che possiamo contestualizzare soltanto a chiusura della giornata, vediamo come in realtà abbiamo 11.211 Bitcoin che sono stati comprati attraverso gli strumenti ETF in zona americana e i miners ne hanno prodotti soltanto 900, ragazzi. Ogni giorno che stiamo a monitorare questa metrica abbiamo degli assorbimenti, degli acquisti di Bitcoin rispetto a quelli invece che vengono emessi nuovamente, emessi al mercato, ma vanno sempre più crescendo. Adesso siamo arrivati all'incirca a un 11x, un 12x rispetto all'emissione di questi Bitcoin da parte dei miners. Andiamo a vedere, tra l'altro, che negli ultimi 14 giorni vediamo un inflow positivo, di conseguenza prende in considerazione sia quelli in acquisto, cioè vuol dire i capitali che entrano attraverso questi strumenti, meno quelli che defluiscono. E ricordo che Grayscale, nonostante stia attenuando la propria vendita dei propri strumenti, questo per varie ragioni, ragazzi, l'abbiamo già affrontato in vari altri video, però comunque sia, in base a queste due metriche, ovvero gli afflussi e deflussi, abbiamo in 14 giorni nuovi capitali entrati attivamente all'interno dei Bitcoin ETF di circa 5 miliardi e mezzo. È una cifra enorme se ci pensate. Mi fa un po' impensierire, impaurire questa dichiarazione fatta da Jim Cramer. Sapete benissimo quanto Jim Cramer non sia un amante di Bitcoin, anzi diciamo che è un detrattore proprio di Bitcoin. È un conduttore nella famosissima trasmissione che viene trasmessa su CNBC per quanto riguarda i mercati finanziari e ogni qualvolta che lui parla e dice qualcosa in relazione a Bitcoin o al mercato crypto in generale, succede sempre l'esatto contrario. Ma allora perché ci sta facendo preoccupare? Perché ha dichiarato proprio il 28 febbraio che, visto il successo dei Bitcoin ETF, come stanno appunto impattando anche il prezzo del sottostante, ovvero di Bitcoin stesso, Secondo la sua opinione, è ovvio vedere che gli ETF su Ethereum, qualora venissero lanciati, fare la stessa fine. Ragazzi, per i maschietti toccatevi i testicoli, per le femminucce toccate soltanto ferro. Ragazzi, speriamo che questa volta ci abbia azzeccato, che non succeda appunto l'esatto contrario. Interessante vedere questo post di Edward Snowden. Per chi non si conoscesse, Edward Snowden è un ex informatico, un geno dell'informatica che ha lavorato per i servizi segreti della CIA in America e soprattutto che in passato ha pubblicato un sacco di documenti segregati che hanno fatto uno scandalo enorme per quanto riguarda vari comportamenti governativi in zona statunitense. In seguito a ciò sapete benissimo che è stato perseguitato per anni, anche tramite minacce di morte dal governo americano, eccetera, eccetera. Comunque sia, ha dichiarato che secondo lui un governo o vari governi durante quest'anno dichiareranno che hanno comprato bitcoin per detenerlo come si fa appunto con il gold nelle casse, nelle territorie di stato, ma ancora non è stato pubblico e quest'anno secondo lui potrebbe venire allo scoperto quest'ultimo stato che se questo geno dell'informatica avesse ragione, ragazzi, potrebbe al palesarsi di questa situazione. Moltissimi stati che seguono a ruota questo stato segreto. Speriamo appunto che abbia ragione. E soprattutto, secondo me, se ha dichiarato delle cose del genere, probabilmente è molto, molto sicuro di quello che sta dicendo. Questo tweet ha fatto il giro del mondo praticamente in pochissime ore, perché diciamo che è stato pubblicato il 28 febbraio, ma ha già ricevuto 2.2 milioni di visualizzazioni. Comunque, ragazzi, torniamo a una chart prima di andare a vedere nel dettaglio e passare nella seconda parte di questo video. Una chart che è molto interessante e che vi ho riportato più e più volte durante questi giorni perché ci fa vedere un po' a seconda della grandezza del portafoglio che detiene all'interno Bitcoin il trend accumulation score, ovvero se stanno accumulando o stanno comunque sia dampando Bitcoin stesso. Vediamo come negli ultimi tempi, in realtà, abbiamo raggiunto un livello molto interessante. Livello in cui quasi tutti, anzi tutti, i player a mercato stanno accumulando Bitcoin. Avete questa linea blu? Linea blu vuol dire che tendenzialmente i player stanno accumulando Bitcoin ad un ritmo abbastanza importante. E stiamo parlando di portafogli che, perdonate appunto questo coso sgranato, comunque ve lo dico io, partono da meno 1 fino a maggiore di 10.000. Diciamo che tutti questi player stanno facendo lo stesso gioco. Finalmente, ragazzi, passiamo con la parte più interessante di questo video dato che ci troviamo nell'Alcoin Friday. Comunque direi di andare prima a fare una panorama che c'è di generale di come si sta comportando il mercato nelle ultime 24 ore. Voi che ne dite? Infatti, vediamo come abbiamo un mercato in realtà misto. Abbiamo Pepe che perde un 13,9%, ma in realtà nell'ultimo mese per forma del 164%. Diciamo che, nonostante questa perdita, non sta andando male per niente. Abbiamo comunque il settore intelligenza artificiale che sta guadagnando abbastanza bene nelle ultime 24 ore. Abbiamo FET più 21,6%, Agix più 19,8%. Solana più 11,7%, che tra l'altro Solana l'andiamo ad affrontare proprio oggi perché ha raggiunto dei livelli molto interessanti. Ma passiamo con i big, ovvero Bitcoin ed Ethereum. Bitcoin ricorregge nelle ultime 24 ore dell'1,66%. Diciamo che è un po' il riposo del guerriero, dato che negli ultimi sette giorni, ragazzi, l'asset di Bitcoin, ripeto, capitalizzato, 1,2 trillion dollar, ha performato del 20,28% negli ultimi sette giorni. E infatti in questo video voglio andare a contestualizzare con voi, soprattutto il mensile. Bitcoin ha un prezzo attualmente di 61.500 dollari. Ethereum, allo stesso modo, perde un 1,54%. Lui ha una performance ottima negli ultimi sette giorni, 14,62%, assestando il prezzo a 3.380. Ma passiamo subito con il grafico di Bitcoin mensile perché, ragazzi, sulle storie, per chi mi segue su Instagram, lascio qui sotto i link in descrizione, avevo detto quanto fosse importante andare a chiudere al di sopra il mensile dei massimi storici precedenti, ok? Infatti, i massimi storici precedenti, più o meno, si trovava la chiusura a 61.369. Non ci siamo arrivati, effettivamente, siamo stati leggermente sotto. 61.167. Qualora dove avessimo chiuso il mensile, che tra l'altro, ragazzi, vi faccio presente che questo è il mensile, come ho detto anche ieri, anzi, il mensile più importante a livello proprio di performance di Bitcoin. Non a livello percentuale, ma a livello di controvalori in dollari. Infatti è un mensile che ha visto incrementare il prezzo di Bitcoin di 18.648 dollari. Una cifra folle, un dato folle. Comunque, al di là di ciò, sul mensile, effettivamente, abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei candele verdi, vabbè, io le tengo arancioni, però comunque sia, sei candele positive, senza mai un ritracciamento. E l'ultima è impressionante, come abbiamo visto prima. Quindi staremo a vedere cosa succederà a marzo. In moltissimi bociferano che a marzo ci potrebbe essere un ritracciamento. Non sarebbe malaccio in realtà un ritracciamento, perché sappiamo benissimo quanto il mercato debba respirare. Però volevo farvi appunto notare questa cosa, che Bitcoin non aveva chiuso al di sopra dei massimi storici precedenti, sto parlando ovviamente di chiusure. Comunque, caliamo di time frame e andiamo a vedere cosa sta succedendo sul daily, perché sta un po' ritracciando, ok? Ieri appunto ha perso e ha fatto questa candela, che potrebbe essere definita quasi come una doji, con un corpo un pochino più ampio. Questo sta a vedere come i sellers hanno chiuso in padronanza, però effettivamente non è che abbiano avuto delle performance enormi. Infatti, se prendiamo il corpo del chiusura, hanno chiuso con un meno 2.2%, che nel momento in cui stanno sta recuperando, e si assetta a 1.7%. Il weekend ci dà sempre delle sorprese, tendenzialmente in positivo per quanto riguarda le ultime settimane e gli ultimi mesi per Bitcoin, però è anche vero che, diciamo, negli ultimi giorni, durante la settimana, si è dato da fare. Quindi non mi sorprenderebbe vedere una stazionalità o un leggero ritracciamento, ok? Attualmente, ripeto, valuto, nell'eventualità delle posizioni short, qualora dovessimo andare a rompere i livelli su time frame inferiori, sicuramente non valuto delle opzioni long, perché, guardate, è evidente quanto siamo estesi. Con questo non sto dicendo che andremo short, ma qualora si presentasse la opportunità di andare magari a rompere varie soglie, prendiamo sul one hour, varie soglie, come per esempio i 59.886, valuto qualora magari dovesse rompere, ritestare, diventare short almeno fino ai livelli di 57, o comunque sia 55.7. Però, ripeto, ancora questo scenario si deve creare e sto soltanto fantasticando su un'ipotesi che potrebbe avvenire durante il weekend. Comunque, le performance di Bitcoin parlano da sole, sono stellari e sono da record. Passiamo con le liquidazioni. Effettivamente, le liquidazioni, se noi andiamo a prendere in considerazione la liquidation hitpup al grafico una settimana, possiamo vedere che non abbiamo zone di forte interesse sul weekly. Praticamente non abbiamo proprio zone di interesse fino ai 50.520 dollari con un liquidation leverage di 700 milioni di dollari. Fino a lì non abbiamo assolutamente nulla. Passiamo ad Ethereum. Ethereum, vi dicevo, ragazzi, possiamo arrivare senza problemi a questa soglia qui, ovvero la soglia che va tra i 3.524, più o meno ovviamente, fino ai 3.593, che era in pratica questo massimo, che poi ha generato tutto questo impulso ribassista che ci ha portato ai minimi dello scorso ciclo di halving, ed effettivamente sembra aver reagito esattamente all'inizio, al varco di quella zona. Vedete come le zone funzionano e sono sensibili per quanto riguarda la price action di un asset. Passiamo con la prima altcoin, Solana. Solana che ha raggiunto e ha fatto esattamente come avevamo visto negli scorsi video. Vi avevo detto, ragazzi, questo si poteva confermare come un double bottom, double bottom che poi ci avrebbe portato verso il primo punto di interesse. Il primo punto di interesse era 115. Perché 115? Perché corrispondeva più o meno con questo massimo, massimo toccato durante il 10 febbraio 2022. Poi qualora avessimo avuto la forza di andare a rompere innanzitutto il massimo di questo channel discendente e l'abbiamo raggiunto. Addirittura abbiamo raggiunto anche quest'altro punto di interesse che a mio modo di vedere è di andare a contestualizzare su Solana. Perché? Perché anche questo, un po' come per i tirum che abbiamo visto prima, che se andiamo indietro, ritorniamo il grafico a un giorno, questo punto di interesse corrispondeva con il massimo che poi ha portato verso il bear market più oscuro. In realtà questo livello coincide anche con quello di Solana, perché il primo impulso che ha scaricato e ha portato Solana da 136 fino ai 26 dollari è stato proprio questa zona. Quindi, ragazzi, fate moltissima attenzione. Non sto dicendo che dobbiamo andare a zero, non sto dicendo assolutamente questo, però che potremmo avere una reazione qualora dovessimo trovare incertezza nei time frame minori. Diverso il fatto in cui tra oggi e domani andiamo verso i 145 dollari, allora andiamo ad invariare e rendere con una percentuale molto bassa un'inversione in queste zone. Passiamo con BNB. BNB, ragazzi, ci sta sorprendendo un po', perché possiamo vedere che a partire proprio dal primo dicembre 2023 è passato da 225 a 407, una performance stellare. Il primo punto di interesse, a mio modo di vedere, potrebbero essere i 452, perché anche qui è una zona molto interessante che potrebbero intervenire i sellers. Passiamo per Matic. Sto andando un pochino veloce perché ne ho messi altre 4, altrimenti non ci si farebbe. Matic in realtà sta faticando. Sta faticando, infatti, non riesce a rilevarsi dalle balle questo range degli 1.07, o meglio, questo è il range di top che deve andare a rompere. Però per adesso, ragazzi, vedete quanto è intensa la price action, quanti sono intensi i movimenti qui dentro. Vuol dire che abbiamo un forte equilibrio tra sellers e buyers. Ovviamente i buyers sono leggermente in padronanza, ma non abbiamo quel momentum che ci fa dire wow, allora potrebbe esplodere verso l'alto, almeno per adesso. Staremo a vedere che succede nel weekend. Starks. Starks non è messo per niente male, infatti sta ritestando i massimi. Per quello che me ne concerne, massimi storici, ora non ho il grafico pieno. però comunque se prendiamo il time frame dall'aprile 2021, dove più o meno ha toccato i massimi, in realtà l'ha toccato a dicembre 2021, però comunque possiamo vedere che attualmente sta ritestando quelle zone. Pare le abbia rotte, esattamente. Staremo a vedere se questa è un ritest per poi riandare in price discovery. Comunque non si sta comportando per niente male. Passiamo con Gala. Gala, abbiamo visto questo impulso con ritracciamento, questo devo dire che è un ritracciamento, almeno ad occhio abbastanza sano, esattamente abbiamo toccato i livelli di 0.61.8, double bottom, per poi ripartire e rompere i massimi di nuovo. Il primo punto di interesse potrebbe essere questo, esattamente questo, ovvero l'inizio di questo channel discendente, in zona 0.061. Vedremo se avremo la forza di andare a ritoccare queste zone. Ultima altcoin del giorno è CRO. CRO stava faticando, molto faticando negli ultimi tempi. Infatti a ottobre 2023 ci trovavamo praticamente ai minimi storici, ok? I minimi storici che con un bel pump ci ha fatto fare più di un 150%. Ha ritracciato ed è stato anche un ritracciamento molto sano, perché un ritracciamento molto sano? Perché anche qui, proprio come abbiamo visto con Gala, ha ritracciato sotto lo 0.61.8, per poi avere un nuovo impulso che ci ha portato, almeno nel momento in cui sto registrando, a ritestare i massimi, le chiusure dei massimi che abbiamo toccato i 9 dicembre 2023. Non sto parlando dei massimi assoluti, ma di quest'ultima frangente di price action. Anche qui, se dovessimo rompere questo livello, il primo livello interessante da andare ad affrontare sono gli 0.12370. Qualora dovessimo rompere questi livelli, ragazzi, la situazione si farebbe più interessante, perché potremmo arrivare a toccare anche addirittura gli 0.15. Comunque ragazzi, tutto dipende da come si comporterà CRO in questa zona. Se verrà rigettato o comunque si avrà la forza di andare a fare delle chiusure importanti, con volumi, al di sopra di queste zone. Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Mi raccomando, se non l'avessi ancora fatto, ti chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso. Per gli iscritti invece, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!